Sicuramente gli interventi di centri storici sono importanti, anche per invertire la tendenza all'abbandono. Oggi in questi piccoli centri c'è un fenomeno di abbandono, ma dovuto anche alle difficoltà di vivere in edifici che non sono adeguati dal punto di vista della sicurezza e dalle performance energetiche. Sicuramente il fenomeno dell'abbandono non dipende solo da questo, perché come si è detto dipende anche dalla mancanza di lavoro sul posto, di mancanza di attività economiche e quindi tutto questo ovviamente contribuisce al fenomeno di abbandono e quindi anche al fenomeno di degrado delle abitazioni. Hai parlato di dialogo tra i soggetti interessati, sinora c'è stato il dialogo tra i soggetti interessati? Purtroppo in genere la pianificazione non tiene conto sempre, per quanto le leggi lo prevedano, poi in realtà una reale condivisione delle scelte pianificatorie in generale non c'è. Non c'è, in altri paesi europei ci sono i forum tra i cittadini, quindi sono una specie di referendum attivi che vengono aperti ogni volta che si deve realizzare un'opera che trasforma il territorio. In Italia purtroppo ci sono le leggi, non sempre le leggi vengono applicate nel modo che garantisca tutto questo. Allora che cosa succede? Succede che molte volte poi le opere progettate non vengono condivise dai cittadini e quindi si fermano. È importante invece garantire una condivisione reale, quindi con coloro che poi devono utilizzare le opere che si vanno a realizzare e anche poi far dialogare di più gli enti che sono così preposti all'espressore dei pareri, quindi garantire anche che avvenga meglio anche questa condivisione sul piano istituzionale. Sicuramente tutto questo potrà accorciare i tempi e anche garantire poi che una volta iniziata l'opera non ci siano blocchi che purtroppo vediamo tante volte intorno a noi nel nostro territorio. Stiamo ancora trasformando qualcosa, a cominciare dal famoso eco-mostro che proprio in questi giorni partiranno finalmente i lavori e questo è un po' l'emblema della macchina burocratica, di come soffoca le amministrazioni, di come soffoca le comunità. È proprio l'emblema. Noi abbiamo elaborato, abbiamo terminato anche uno studio molto specifico per il nostro piano urbanistico comunale dove abbiamo dato veramente una prospettiva di sviluppo nei prossimi vent'anni andando a puntare su quelle che sono realmente le nostre risorse e in questi giorni abbiamo avviato anche il PUA, cioè il piano urbanistico attuativo proprio sul centro storico perché i centri storici rappresentano la vera grande risorsa dei territori perché rappresentano l'identità di una comunità e quindi noi ci teniamo a mantenere la nostra identità, a guardare quindi al futuro ma a guardare anche al passato perché non possiamo cancellare le tante cose importanti, il grande valore culturale che il nostro passato rappresenta e che si identifica un po' nei centri storici. I centri storici del Vallo di Viano ognuno rappresenta una tipicità però è chiaro che il grande sforzo sarà quello di farli cercare, non dico di farli vivere perché il fenomeno dello spopolamento chiaramente è un fenomeno particolarmente diffuso e anche se mettiamo in campo tante iniziative per cercare di ripopolarlo a cominciare dalle agevolazioni fiscali sia per le nuove famiglie e sia per le attività commerciali è evidente che oggi viviamo in un'epoca in cui ogni famiglia cerca di avere il più facile accesso possibile alle proprie abitazioni e il più facile accesso possibile a tutti i servizi, quindi è evidente che c'è una difficoltà per quanto riguarda il ripopolamento però noi dobbiamo cercare di mantenere quegli aspetti culturali, quegli aspetti architettonici, quegli aspetti artistici che rappresentano un grande valore, quindi non bisogna far morire in questi sensi i centri storici noi infatti abbiamo puntato molto realizzando la biblioteca comunale che rappresenta un po' l'identità culturale appunto di un territorio realizzandola nel centro storico e tante altre attività in questi tre anni noi abbiamo fatto un numero di iniziative notevoli nel nostro centro storico proprio perché è quello un aspetto importante che noi dobbiamo curare nei prossimi mesi sarà completato anche Parazzo Picini dove noi vogliamo che venga popolato dalle associazioni e dai giovani e magari anche da qualche attività museale queste sono un po' le attività culturali che noi dobbiamo e vogliamo realizzare è evidente che poi bisogna sviluppare anche così come abbiamo fatto un piano urbanissimo comunale va fatto un piano specifico per quanto riguarda il nostro centro storico e su questo siamo fortemente impegnati io penso che nei prossimi anni noi possiamo dare sicuramente dei contributi validi, efficienti ed efficaci per cercare di mantenere forte la nostra identità che appunto si identifica nel centro storico di Sassano grazie! 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 grazie!